Ben trovati da Tg della mobilità. Domani pomeriggio in centro sfileranno due cortel. Primo da Piazza dell'Esquilino raggiungerà via dei fori imperiali nelle stesse ore. Una seconda manifestazione da Piazzale Ostiense raggiungerà Piazza Vittorio percorrendo anche via Labicana, via Merulana e via dello Statuto. Modifiche di percorso per oltre 40 linee. Le altre notizie domani e domenica potenziate le corse delle linee C verso tutti i cimiteri cittadini. Il potenziamento è previsto anche il prossimo fine settimana, poi le linee C saranno in strada tutti i giorni dal 23 ottobre al 3 novembre. E tutto dal Tg della mobilità.